Buon pomeriggio mamma e papà, sono l'educatrice Antonella De Luca dell'Asilo Unido Tornatore. Oggi vi volevo parlare della motricità fine e quindi questa attività è così intitolata Giochiamo con le manine, ecco la motricità, la manipolazione è l'attività fondamentale che svolge il bambino sin dalla prima infanzia infatti all'età attorno alle frate sanesi il bambino incomincia diciamo a toccare e a fare i primi gesti di prensione per conoscere vari oggetti, vari giocattolini che magari il genitore gli propone. Io oggi ho pensato di fare diverse attività affinché il vostro bambino possa affinare, potenziare, allenare la manipolazione, la motricità delle mani. Ecco, mi sono inventato un primo gioco che utilizzando una barra di polistirolo ho conficcato dentro essa degli spieghi di legno poi ho colorato della pasta e via via ho infilato la pasta colorata dentro questi spieghi questo può essere un gioco che potete fare insieme ai vostri bambini sarà divertente, io la pasta ho preferito colorarla per essere diciamo più attraente e il bambino essere più coinvolto, più attratto dei colori e quindi l'attività risultare ancora più interessante e divertente. Una seconda attività ho incollato le mezze maniche colorate ne ho fissata una ad un nastro e con il nastro entro ed esco dalla pasta ecco, questa attività farà sì che il bambino possa, come dire, possa coordinare possa coordinare i suoi movimenti attenzionando, attenzionando tutto quello che per lui diventa interessante ecco, questa attività è un gioco molto particolare perché si basa principalmente sulla coordinazione oculo-manuale ecco, io non continuo comunque, questo gioco risulterà così se lo fate in compagnia del vostro bambino magari se ha qualche difficoltà lo aiutate vedrete che si divertirà tanto poi ho realizzato un percorso un percorso marino con una barchetta con questa barchetta il bambino muoverà le mani fino a farle roteare, girare il polso di modo che possa articolare completamente la sua mano altra attività che ho preparato per i vostri bambini sono delle sagome delle sagome dove io con la colla stick metterò un po' di colla andremo ad appiccicare dei pezzettini colorati ma non è importanza se non avete pezzettini di carta colorata potete utilizzare semplicemente carta di giornale, fogli colorati qualsiasi cosa possa il bambino utilizzare e ritagliare se ha l'abilità per ritagliarlo quindi via via appiccicherà tutti i pezzettini nelle varie sagome tutti i pezzettini colorati altra cosa, sempre con la pasta colorata ho realizzato delle collane che cosa succede? che le bambine molto vanitose gradiranno questa attività ho bloccato una mezza manica al nastro e poi andremo ad infilare andremo ad infilare il nastro dentro la pasta di modo che i bambini hanno pure come divertirsi e trascorrere del tempo allegramente facendo qualcosa che gli torna utile perché questa attività sicuramente affinerà quelle che sono le sue capacità manipolative ecco un'altra attività è la manipolazione con la pasta di farina ho impastato farina, acqua ho messo un po' di colore colore a tempera e questo può essere una meravigliosa attività per il bambino fare pressione con le dita e manipolare semplicemente semplicemente facendo questo movimento il bambino rafforzerà rafforzerà il polso e le dita altra attività altra attività è la scoperta di cosa c'è nel sale il bambino con le dita pinza deve scoprire cosa c'è dentro il sale io ho utilizzato del sale grosso dove all'interno nascosto dei fagioli è un'attività abbastanza divertente per cui il bambino si sentirà incuriosito dalla ricerca di questi fagioli quindi andremo a cercarli e con il movimento delle dita pinza il bambino preleverà i fagioli e li riporrà in una ciotolina sarà un'attività che gradirà perché dovrà scoprire dove sono i fagioli bene credo di avervi dato di avervi dato un come dire un consiglio su come far fare attività al vostro bambino attività di manipolazione questo affinché possa migliorare rafforzare allenare la motricità fine grazie per la vostra attenzione e alla prossima